La notizia dell'esecuzione di Giuseppe Monti e di Gaetano Tognetti è giunta qui a Firenze e ci ha dolorosamente contristati. Voi del governo non vi aspettavate che venissero giustiziati? Noi abbiamo sperato, fino all'ultimo istante, che un atto di clemenza del Papa potesse salvare la vita di questi due giovani patrioti. Ma purtroppo gli interessi interni del suo Stato non gliel'hanno consentito. Quindi voi ritenete che l'esecuzione abbia avuto un significato politico, per scoraggiare altri tentativi di annettere Roma all'Italia Unita? Di questo siamo più che certi. E per ricordare il sacrificio di Monti e di Tognetti, di questi due giovani eroi italiani, il Parlamento ha indetto per oggi una giornata di lutto nazionale.